Ciao, come ti chiami? Manuela. E il cognome? Lavezzari. Che lavoro fai? EMEA Marketing Director in Lenovo. Quindi sei uno dei capi? Più o meno. Dove ci troviamo in questo momento? Mobile World Congress, al nostro boot. Che giorno è oggi? Primo marzo. Qual è la linea di prodotti su cui vi state focalizzando in questo momento? Yoga, la famiglia Yoga e in particolare Yoga Book. Spiegami, in 10 secondi perché dovrei comprare un computer Lenovo? Anche meno. Different is better, because different performs better. Spiegami, che cosa vuol dire different is better? Per noi l'innovazione è tutto. Dobbiamo portare innovazione ai nostri clienti, ma non semplicemente perché vogliamo innovare o essere differenti, perché riteniamo che l'innovazione veramente soddisfi i bisogni dei nostri clienti. E quindi lo facciamo attraverso, ad esempio, lo Yoga. Siamo stati i primi ad introdurre un prodotto che era convertibile. Si ruota su di sé a 360 gradi. Abbiamo introdotto qualche mese fa lo Yoga Book. Puoi prendere le tue note, i tuoi minuti sulla carta e queste vengono immediatamente digitalizzate sul tablet. Per quanto riguarda la linea Mobile, i Moto Mods hanno rivoluzionato quella che per noi è il concetto di smartphone. E quindi attraverso questi moduli possiamo offrire delle esperienze diverse ai nostri utenti. Una magia che hai fatto con un tablet? Guarda, la magia l'ho fatta con mia figlia, proprio con lo Yoga Book. Non poteva credere che scrivendo sulla carta i suoi disegni venivano immediatamente memorizzati dal computer. Qual è il posto più bello che hai visitato in Cina? Ah, ma dai, questa è una domanda difficilissima. Shanghai. Mi dici una parola in cinese? Xie xie? Dai, la più facile, di meno un'altra. Non la so, sai l'unica che so. Ci fai vedere il tuo computer? Certo, questo è il mio Think Pack Yoga. Ovviamente era spento. Stavi facendo finta di lavorare. Eh, lo so. Grazie mille Emanuela e buona giornata. Anche a voi, grazie mille. Ciao, ciao.